Che splendida visione, Miss Frye! La vostra incredibile barca merita un riconoscimento. Un esperimento di quando ero Lord dell'ammiragliato. Non sempre ho agito nell'ombra. E suppongo che questo successo vi riporterà alla gloria. Abbiamo inflitto un colpo al nemico, ma Londra bullula ancora di spie tedesche. Adesso c'è un nuovo gruppo, diverso da tutti gli altri. Sono così convinti da rasentare il fanatismo. E voi credete che io possa eliminarli? Esatto. Non oso avvertire il signor Asquith senza prove, ma credo che siano una concreta minaccia. Se ve ne occuperete, vi do la mia parola che quando sarò di nuovo in Parlamento farò di tutto per cercare di appoggiare la vostra richiesta. E come sapete, un voto è più letale di proiettili e spade. E come sapete, un voto è più letto.